bom 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 boom bitcoin grande forza anche inizio di questa settimana si va ad avvicinare alla ATH all time high per quanto riguarda i mercati e le criptovalute è sicuramente una grande festa anche se ancora per pochi ma devo dire la verità negli ultimi giorni un po' di movimento in più si inizia a vedere quindi stiamo entrando un po' prematuramente di solito avveniva qualche mese più in là in questa fase di bullo una fase di euforia generalizzata che potrebbe comunque esserci vi faccio vedere quello che è la fase rialzista che è avvenuta anche oggi siamo a più 5 di titolo ovviamente la candela deve chiudere attenzione perché siamo vicini all'ultimo baluardo il livello di resistenza che vedremo oggi è quello che distingue e distinguerà un scenario rispetto a un altro perché la breakout il livello in questione ovviamente andiamo in andiamo in una situazione che si chiama e si definisce price discovery che cos'è che cosa non è ne parliamo in questo video e anche un po' di cosette sulle quali bisogna riflettere quindi situazione ciclica alcuni dati economici che sono veramente interessanti questa settimana e guardiamo anche a ethereum perché nonostante non sia forte come bitcoin continua la sua fase di a dire la verità adesso non è più diciamo lateralità debolezza pura ma lateralità rispetto a bitcoin ma che trend ragazzi veramente sembra un trend pilotato io trend di questo tipo sfido chiunque fosse diciamo sia un investitore un trader nei mercati classici nell'old market a trovare un trend pulito così che meraviglia allora questi sono veramente i proprio le insomma gli eventi gli eventi attuali alle crypto che sanciscono anche perché c'è una macchinetta che praticamente sta andando a fare bye 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 di eth quindi la questione etf potrebbe in effetti spociare poi a quel punto il cambio passo sarebbe proprio dietro l'angolo parliamo di tutte queste cose ma prima di andare avanti oggi parliamo dello sponsor di questo video perché è un deja vu un ritorno diciamo così si riattiva infatti la possibilità di utilizzare di nuovo un exchange prime xbt molto molto evoluto da un punto di vista di piattaforma con i cfd che abbiamo utilizzato tantissimi anni orsono poi con questioni legate al che guai sia la consob e tutto il resto per il pubblico italiano era stato sospeso invece per tutta europa continuava a lavorare se non che è ritornato ritornato visibile anche a livello italy e quindi se siete in italia residenti in italia funziona di nuovo nonostante questo non ha mai smesso ovviamente di funzionare noi lo utilizzavamo tanto perché aveva una piattaforma dedicata anche alla trading per esempio sui cfd e quindi utilizzavamo per esempio bitcoin per fare trading su bitcoin stesso e soprattutto aveva una piattaforma estremamente veloce da alcuni punti di vista hanno attrivato tra le altre cose anche un account che è legato ai future quindi non è solo come quello che era per esempio tempo tempo addietro ma ci sono anche i future soprattutto molto molto facile utilizzarlo con le varie tipologie di ordine e insomma è un po più immediato più veloce tra le altre cose questi sono tutti i future nell'ambito delle criptovalute che hanno in pratica il vantaggio di avere commissioni maker taker estremamente vantaggiose perché sono lo 0,01 e il 0,02 per cento quindi in pratica le più basse che esistono a prescindere questi sono i vantaggi di avere un broker un po diciamo come ragazzi un po con delle caratteristiche però vanno ricordate perché vi faccio vedere questa che è la schermata che esce fuori allora giustamente c'è stato un avviso anche adeguato diciamo da questo punto di vista per quanto riguarda la regolamentazione dell'Europa e quindi è un'unità che non è stabilita in Europa e questo diciamo lo specificano l'entità non rientra nel quadro normativo dell'UE cioè della MIFID 2 non è previsto alcuna schema di compensazione per gli investitori non verificerai delle protezioni disponibili per i clienti che ricevono i nostri servizi di investimento regolamentati e insomma dovresti verificare la tua legge applicabile sarai completamente responsabile di questo impatto negativo si prega di confermare allora in pratica questo credo sia stato l'escamotaggio per farlo nuovamente funzionare e dichiarare che appunto lo rispettano la normativa MIFID eccetera perché che così l'hanno inserito però si può operare anche senza che voi si questo è il vantaggio di questi diciamo strumenti un po' così e quindi ragazzi insomma bisogna accettare questa cosa quindi ovviamente qui i rischi sono maggiori rispetto ad altri exchange dovete conoscerle queste cose utilizzatelo laddove vi serve invece per l'operatività anche se io devo dire la verità dal 2018 è sempre stato stabile non mai cresciato ha sempre funzionato non ha mai dato problemi che magari abbiamo visto per altre questioni però eh l'avviso lo lo insomma è importante lo vedete letto allora eh ragazzi non so cosa era successo si era bloccato un po' il computer non so neanche se è andato avanti a registrazione comunque vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda questo exchange se lo volete provare è e iperattivo come exchange e e vi lascio anche un link con 100 eh dollari di bonus cioè il 20 per cento del deposito quindi basta fare il deposito il primo deposito vi danno il 20 per cento di bonus che potete utilizzare per fare i test vari provare e provare fare eh diciamo trading eh regolare ragazzi vi lascio anche il coupon da aggiungere per lo sconto delle fiche già sono bassissime diventerebbero scontate di un ulteriore 25 per bene è un grande ritorno qualcuno di voi se lo ricorda chi ha il vecchio conto può riprenderlo e usarlo eh normalmente andiamo a vedere diciamo eh il video di oggi diciamo il contenuto normale eh c'è stato un blackout abbiamo avuto un blackout della piattaforma allora per quanto riguarda la questione intanto vorrei iniziare dalla eh dai dati eh andando abbastanza spediti e spediti perché il dato più importante riguarda la decisione del tasso di interesse della banca centrale europea che sarà identico in effetti i rendimenti legati a quelli che sono per esempio il eh i tasti di interesse ehm e i rendimenti delle obbligazioni anche Stati Uniti non solo Europa negli ultimi periodi non si sono modificati anzi tendenzialmente sono stabili barra leggermente rialzisti questo significa che il mercato sta scontando che il ribasso di tassi di interesse anche se fosse eh non sarà così importante nell'anno duemilaventiquattro probabilmente ci sarà ma sarà ritardato e soprattutto inizia ad aver paura eh che eh il rientro a tassi molto bassi non avverrà assolutamente nei prossimi eh anni in maniera così semplice e così veloce questo è il dato che noi otteniamo anche dall'analisi dei rendimenti delle obbligazioni di lungo periodo eh ve lo sto dicendo insomma un po' così quindi eh un po' questi dati potrebbero essere anche significativi perché nonostante eh un ragionamento di questo tipo e il mercato vi assicuro sta in questo momento non scontando ribasti i tassi quindi emissioni di liquidità non sta facendo nulla di tutto ciò anzi il contrario nonostante questo abbiamo eh eccesso proprio di domande di acquisti su bitcoin e sul mercato delle cripto e nonostante non ci sia nessun flusso di liquidità che sia stato attivato la manovra di etf ha funzionato alla stra eh grande eravamo esattamente qui quando gli etf sono stati presentati eh da blackrock in questa zona e dopodiché c'è stato il buy e poi il dip conferma il risultato finale dalla presentazione della domanda di di blackrock che era questa zona qui agli attuali prezzi e del cento cinquantuno per cento di rialzo dalla notizia del etf incredibile allora parliamo della questione ciclica per quanto riguarda bitcoin poi parliamo anche della questione legata alla ehm ehm livello di resistenza che in questo contesto secondo me è ancora più importante della questione ciclica perché perché la questione ciclica ragazzi quando i sono estremamente pronunciati molto vigorosi vale tanto e non quanto perché mh eh potremmo avere dei minimi e quindi la chiusura degli acicli che sono quasi invisibili quasi inesistenti non riusciamo magari a vederli per esempio eh all'interno di questa struttura di barra di congestione è stato chiuso sicuramente un ciclo probabilmente un ciclo settimanale che dovrebbe essere stato chiuso i qui in mezzo eh non si vede neanche allora se magari mettiamo dentro dei ecco time frame diversi oppure un grafico a chiusura si vede un pochino però è talmente basso che praticamente è intradabile una cosa del genere ed è già un ciclo comunque non piccolo quindi a livello ciclico probabilmente qui siamo ormai nella eh tradabile tra virgolette sul mensile eh ma anche volendo per esempio vi faccio vedere la questione che mh insomma potevamo avere una chiusura mensile ancora in questa zona secondo me non l'ha fatta quindi qui siamo nel nuovo mensile ha fatto l'altalena che pensavamo facendo up poi down ma il down non è stato inesistente quindi è stata un'altalena monca diciamo così solo la parte up eh in sostanza è molto probabile che qui sia stato chiuso il ciclo mensile e qui siamo nel secondo ciclo eh mensile però giusto per darvi anche un'idea di questa cosa vi faccio vedere per esempio la parte eh fatta in questo modo di chiusura del ciclo anche mensile è stata praticamente irrisoria è intratabile anche questo perché è difficile fare questo tipo di trading eh e poi eh rientrare diciamo a prezzi sufficientemente validi eh detto questo in pratica avremo una struttura ciclica in fase evolutiva probabilmente siamo in questo nuovo ciclo mensile dal minimo eh del giorno ventitré di febbraio e dovremmo andare a chiudere anche un trimestrale eh che potrebbe essere fatto da sessantadue giorni considerando eh un trimestrale classico oppure poi allungare un pochino e quindi fare questo mensile un pochettino più lungo rispetto al precedente precedente trentuno giorni veramente un po' troppo corto oppure farne ehm eh farne tre da venti e quindi fare due mensili messi insieme e allungare un po' questo costrutto in ogni caso al momento non abbiamo dati da questo punto in poi il mercato ha fatto qui la chiusura di un ciclo settimanale adesso siamo a dieci giorni in pratica niente dobbiamo andare almeno quindici sedici giorni per chiudere questa struttura di un bisettimanale se lo fa di natura binaria oppure se continua a spingere e fa i massimi qui sarebbe un ternario quindi in questo caso strutturato in questo modo già vi eh dico che è intradabile una cosa del genere perciò da un punto di vista eh logico a livello di analisi ciclica ragioniamo eh sui cicli per avere il quadro della situazione ancora molti molti pochissimi di voi ancora non comprendono questo concetto gli scenari sono eh il nostro allenamento gli scenari ci servono a capire velocemente cosa fare nel momento in cui il mercato lo sta facendo e ci danno un vantaggio l'unico vero edge possibile sul mercato non esiste la previsionalità non esiste la possibilità di avere provisioni sul mercato l'edge vero è l'organizzazione e la capacità di avere gli scenari delineati e quindi riuscire ad operare in maniera estremamente veloce e reattiva mentre lo scenario è in atto senza accorgersene dopo e dopo nei mercati è pesante molto pesante quindi non si può fare dopo bisogna farlo prima nel momento in cui noi abbiamo gli scenari delineati siamo allenati siamo capaci di rispondere al mercato e di eh salire sul carro quando è giusto o andar via quando le questioni si mettono un po' eh male allora questa è la questione attuale io aspetterei eh a questo punto il ehm touch di questo livello di resistenza che secondo me è la questione più eh spinosa e dal touch livello di resistenza dovremmo capire una serie di cose che cos'è questo livello di resistenza questo livello è 67.700 dollari quindi quasi 68.000 dollari ed è l'ultimo baluardo dell'ust perché a livello di eh close in eh natura eh daily quindi sulla barra daily sulla settimana è ancora più bassa adesso ve la faccio vedere questo è l'ultimo livello di chiusura cioè l'all time hai quello che conta veramente l'all time hai quello che conta veramente è questo qui 67.559 prezzi bit stamp diciamo 67 e e qualcosa e 8 insomma 67.7 per andare in breakout se chiude al di sopra di questo livello intorno ai 68.000 fa i massimi storici in close daily che è quella che conta perché perché tutti i sistemi eh che vengono utilizzati da chi fa gestione attiva del proprio trading utilizzano la close daily e non le altre i tipi di close non utilizzano le shadow quindi lasciato a 69 a valore ci mancherebbe ma poco ragazzi quello che ha valore è un livello del genere 68.67 quella zona lì e a livello settimanale ancora di più la stiamo breccando adesso però la settimana si chiude a domenica quindi ancora c'è tanto tanto spazio perché a livello settimanale il livello di resistenza è più basso è ancora più basso e quello settimanale ha più valore rispetto a quello daily ed è è posizionato a 65.000 e 5 prezzi bit stamp quindi siamo in questo momento in price discovery nella close a livello settimanale ovviamente servirà la eh chiusura della settimana per andare a eh diciamo dare conferma di questo dato quindi abbiamo due livelli primo livello 77.68 quella zona lì eh da superare in chiusura della giornata secondo livello i 65.66 da superare in chiusura settimanale quelli sono i veri massimi storici di bitcoin ragazzi poi c'è quello mensile che è molto basso molto 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 basso quello mensile infatti è eh in pratica ehm ehm ve lo faccio vedere qui il massimo mensile è stato dato a 61.359 con la chiusura del mese di febbraio a 61.161 siamo andati a fare una specie di doppio massimo io credo che il mercato si accelererà eh confermando in close della settimana e del daily un superamento di quota 68 è difficile che poi andrà a ritracciare tutto a livello del mese probabilmente subiremo un'accelerazione e il raggiungimento di nuovi target quali nuovi target in prima istanza 70.000 poi 72 74 76 a multipli di due questa zona è una zona che creerà difficoltà eh poi però entriamo in un concetto che è la price discovery cioè quando un asset va su massimi che non aveva mai toccato entra in una spirale di non so dov'è il mio livello di resistenza non esiste la resistenza quindi deve crearsi da solo nuovamente il grafico tutto quello che accade quando entriamo in price discovery è eh in pratica eh completamente sconosciuto non ci sono dati statistici non ci sono dati di natura passata potremmo utilizzare solo delle analisi legate a fenomeni eh di volatilità che sono poi gli indicatori veri del mercato domande offerta volatilità eh e e comprendere un po' come la volatilità può essere impulsiva e poi potremmo utilizzare solo dati legati alle candele precedenti quindi i giorni precedenti le settimane precedenti ma quelle immediatamente precedenti non quelle vecchie quindi siamo ad un baffo dall'entrare in price discovery e l'entrata in price discovery è solitamente estremamente positiva eh sui eh mercati quali sono gli atteggiamenti più comuni di asset che vanno a superare i loro livelli di massimo che cosa fanno fanno solitamente questo allora vi porto qui il concettualmente quello che potrebbe essere una fase fatta così questa zona come vi stavo dicendo è una zona di iper resistenza potrebbe tentare di breccarla dovrebbe teoricamente prima fare la chiusura del doppio ciclo eh settimanale quindi il bisettimanale e poi tentare però con questa forza con questa potenza non è detto che lo faccia nel momento in cui anche dovesse respirare un po' è tutto normale al di sotto di questo livello dopodiché se rompe questo livello va in price discovery accelerata iniziale solitamente per poi tentare una spirale ribassista eh e o fa pullback del livello di resistenza oppure ehm diciamo fa una veloce fase di risalita e poi riassorbita ed entra in una barra di congestione solitamente fa una cosa del genere quindi il pullback arriva ma dipende perché se andiamo troppo lontani eh no eh tant'è vero che anche nell'ultima fase mh che vi faccio vedere quella quando superò il massimo eh storico del duemiladiciassette in questa zona eh qui se non sbaglio eccolo qua eh superò il massimo storico del duemiladiciassette nel duemilaventi ehm a dicembre duemilaventi e in pratica quello che eh ha fatto poi è questo un'accelerazione e non si è più fermato è andato proprio in up e poi ha fatto il down ma eravamo troppo distanti dal pullback e quindi il pullback non è mai avvenuto perché l'accelerazione è stata veramente impulsiva e dall'ultima fase rialzista eh in price discovery in pratica si è andato a creare dal massimo il vero massimo al cento quattordici per cento sopra quindi giusto per farvi capire proprio l'entità di eh e l'importanza eh di questo punto dove siamo in questo determinato punto eh bene ragazzi allora detto questo vi faccio vedere un accenno a quello che invece è ETH eh perché la situazione ciclica di Ethereum è identica a quella di Bitcoin il trend praticamente è una eh struttura eh totalmente rialzista ed Ethereum sta approntando in questo momento un livello di resistenza importante che è l'ultimo massimo qui dopodiché andrà in questa maxi zona gigantesca dove ha in pratica eh soltanto dei livelli di resistenza molto alti quindi abbiamo dei livelli che sono intorno ai quattromila e poi il massimo storico quattromila e otto questa zona per ETH secondo me è una zona di fai un po' quello che ti pare perché qui veramente non c'è niente a livello storico e in questa zona stessa identica cosa quindi da qui a qui eh ragazzi che entra in modalità hyper trade non ci sono livelli di resistenza importanti tranne questi due che vi eh ho eh accennato attenzione ad Ethereum perché il trend in questione configura anche una eh sembra anche che ci siano delle mani che stiano rastrellando su ETH tra le altre cose ho un grafico importante da farvi vedere eh che mh ci inizia a mettere la pulce nell'orecchio sulla questione ETH ETH sta per iniziare a dare buoni risultati e farà il sorpasso su Bitcoin in termini di forza relativa c'è un grafico lo faccio vedere la prossima eh il prossimo video mercoledì per oggi è tutto ragazzi lasciatemi i pollicioni mi raccomando e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto se non l'avete fatto siete dei folli in questa fase vabbè detto questo ciao a tutti buon inizio settimana